... Dentro il cantiere della Metro C cercano i black block, i manifestanti cercano del materiale per difendersi dalla polizia, rubano sanpietrini, hanno smontato prima delle grate per poterle utilizzare, hanno spostato i cassonetti e il resto si armano per prepararsi allo scontro con la polizia, che intanto è ferma a Piazza Leappio, mentre la vigilanza sembra ignara di quello che sta accadendo perché già parecchio materiale è stato tolto dall'interno del cantiere, anzi piuttosto la vigilanza cerca di tenersi bene alla lontana da quello che sta succedendo all'interno del cantiere ci spostiamo in un altro punto...